L'INAIL ha acquisito la nuova sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Solare di Fidenza. L'Amministrazione Comunale ha un contratto di locazione per 18 anni. Il nuovo Solare di Fidenza è ufficialmente dell'INAIL. Con la firma che ha consegnato la proprietà del nuovo plesso scolastico all'Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro, si è concluso il percorso per la realizzazione di quello che a tutti gli effetti è il più grande investimento di edilizia scolastica dell'ultimo decennio in provincia. L'operazione rientra nel programma di iniziative immobiliari che l'Istituto Nazionale ha potuto avviare con la legge di stabilità del 2015. L'ITER, che ha permesso a Fidenza di recuperare un progetto che a fine 2014 sembrava ormai definitivamente arenato, ha preso il via il 15 settembre 2015 con la presentazione della proposta di investimento in risposta all'avviso pubblico volto a individuare le iniziative da sottoporre alla valutazione dell'INAIL. La successiva istruttoria per la verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto ha dato esito positivo e in 30 mesi è stata costruita da zero la nuova scuola con in suoi oltre 4.500 metri quadrati di superficie. Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita tra comune di Fidenza e INAIL è stato stipulato un contratto di locazione con cui la struttura è stata affittata per 18 anni alla stessa amministrazione con un canone annuo fissato al 2,5% del costo complessivo dell'investimento. Un importante percorso, durato più di un anno, che ha visto Fidenza essere uno dei primi comuni d'Italia a sottoscrivere questo strumento per avere le dotazioni economiche e finanziarie per completare una struttura importantissima. Dall'8 di gennaio i ragazzi sono dentro ed è una delle cose più belle e preziose che questo territorio possa esprimere.